cosa di wild di veramente ecco già sbagliato non volevo fare questo veramente veramente selvaggio e allora guardate io ho preso questa immagine qui e voglio voglio pensate un po ricavare una tinta pantone da stampare in modo separato ed è veramente un'impresa per come siamo abituati perché noi siamo abituati a lavorare con i canali e vi assicuro che adesso adesso come adesso con affiniti foto lavorare con i canali è veramente dura perché non possiamo lavorare sui dentro i canali direttamente con le regolazioni perché le regolazioni sembra che lavorino soltanto sui livelli e anche lì non lavorano direttamente sull'immagine lavorano sempre soltanto come i livelli di regolazione dinamici e questo è un problema quando dobbiamo lavorare invece con i canali tinte piatte separate quindi c'è un altro modo per lavorare in tinte piatte per mettere una tinta piatta in un nostro lavoro sì un modo c'è ed è farlo sui livelli separando il colore che voglio sui livelli che non è tanto facile comunque però allora innanzitutto di rinomino il mio immagine come tigrotto il nome di prima era un po troppo complicato che questo è veramente un'immagine è un oggetto avanzato praticamente no e quindi io adesso voglio selezionare parte di questo colore e perché su questo colore che io voglio lavorare no e c'è un bellissimo interno ci sarebbe l'intervallo colori che conosciamo tutti ma qui è un po diverso un po troppo limitato per i nostri gusti vedete seleziona soltanto gruppi di colori primari oppure seleziona vabbè chiaramente sulla base delle luminosità invece c'è un bellissimo comando seleziona colore campionato che però non è attivo non è attivo perché l'immagine non è ancora rasterizzata lavora solo sui sui pics deve accedere ai pics e vabbè noi la rasterizziamo livello e vedete abbiamo non uno ma ben tre possibilità di rasterizzare e rasterizza regola quella che ci torna bene che in realtà dovrebbe chiamarsi rasterizza e ritaglia perché vedete che l'immagine si espande oltre i confini del documento che è una 4 ecco rasterizza regola non rasterizza e basta come farei o cosi no ma me la z mi rasterizza e ritaglia attorno al documento tu cioè mi butta via tutta l'immagine che non uso però devo essere convinto adesso che non la uso perché non mi serve più però adesso posso andare su questo bellissimo seleziona colore campionato attenzione colore non l'ho campionato prima lo devo campionare ora con questa finestrina aperta vedete e vado a scorrere a cercare il colore che mi piace qui c'è anche varie situazioni da scegliere il cubo c e lab non so adesso posso avere una qui praticamente ho selezionato tutto no voglio essere un pochino più tollerante cioè un po meno tollerante ecco avere soltanto una spolverata del genere e dico applica devo dirgli applica perché altrimenti questa selezione non la posso ancora usare e comunque non mi rendo bene conto di quello che ho fatto no perché che che selezioni ho fatto c'è sì la vedo ma la vedo con questa situazione quindi marcinez che però una maschera rapida che non mi aiuta tanto perché sono sempre colori caldi ma posso vederla come bianco per dire oppure fermo non so perché mi ha scattato tutto aspettate recupero l'immagine ecco qui fermo qua ok in questo caso tutto quello che avanza praticamente è la selezione oppure come nero bah che poi sinceramente ecco non è manco questo quello che voglio allora perché la selezione dovrebbe essere l'inverso no ma in questo momento non pensiamo a salvarla poi magari ci lavoriamo sopra e se adesso io la potete salvare su un canale su un canale ci faccio tante cose ma ripeto sui canali no allora se su canali no facciamolo sul livello facciamo su un nuovo livello un nuovo livello pixel qui abbiamo anche dei bellissimi livelli di riempimento livello ecco qua che come vedete me lo dà già vuoto è realtà il riempimento ma posso scegliermi ecco qui un colore qualsiasi da assegnargli e non succede un bel niente non succede proprio nulla qui perché non succede nulla perché sto usando lo strumento sbagliato no non credo non credo assolutamente questa questa selezione tra l'altro non voglio rischiare di perderla allora cerchiamo di capire dove siamo e perché vedo un solo selettore colore rgb campioni e non gli piace diamo un campione campione gli piace ecco perché perché la miniatura del livello ci mette un po a venire fuori capite è questo il problema ma è già stato catturato al volo quindi togliamo di mezzo questa deselezione amo e cerchiamo di capire meglio ecco quello che sto facendo ecco vedete io potrei fare un bellissimo quinto colore su questa tigre di questo tipo bello magari un po molto vivo anche più vivori così ma io adesso lo sto scegliendo a caso è posso anche permettermi di scegliere colori quasi illegali in questo caso anche troppo quasi illegale dicevo in questo caso ecco qui e tutte le volte che cambia un colore automaticamente il livello di riempimento chiaramente si aggiorna e mi dà comunque una buona anteprima di quello che succede però magari io comunque voglio avere la possibilità di lavorarci sopra per dire voglio escludere alcune aree metterne altre che ne so voglio prendere il lasso e prendere tutte queste parti piccole qui e cancellarle cancello e posso fare vedete praticamente il livello di regolazione lavora anche lui con una maschera pixel e dentro questa maschera pixel io posso fare determinate cose posso anche andare potrei andare anche con un pennello ma attenzione la maschera pixel non lavora in ragione del contenuto del colore che c'è dentro no cioè quindi qualunque se vado col pennello qualunque colore userò porterò sempre nuove informazioni un pochino sinceramente dove è stato un'esperienza veramente insomma se continua a spennellare probabilmente arrivo un colore più più intenso aspettate c'è qualcosa che non tutto ecco questo adesso è che io vorrei lavorarci così cioè vorrei lavorare su queste informazioni qui magari in ragione di nero cioè voglio in nero ecco nel momento però in cui io ho lavorato ho fatto un click con uno strumento il lasso il pennello ho perso la capacità di regolazione dinamica del livello dinamico di riempimento quindi questo adesso è diventato anche se si chiama continua a chiamarsi così praticamente è un livello pixel tanto è vero che se ricambio colore non lo cambia più vedete che carino è però dovrebbe avere ancora determinate caratteristiche di soprattutto legate alla maschera vediamo se riesco a lavorare sulla maschera non ci riesco ma posso rasterizzarlo e farlo diventare effettivamente un livello normale eccolo qui con parti più o meno trasparenti controlliamo sfondo trasparente infatti quindi qui ho delle informazioni sulla trasparenza in realtà qui non potrei lavorarci nemmeno con i livelli di regolazione perché le regolazione lavorano sui grigi o comunque su varie differenze di luminosità ma qui praticamente c'è un colore solo con varie gradi di opacità e trasparenza quindi anche se ci vado con un comando livelli vedete che posso al limite lavorare un po intensificare o meno il colore ma no neanche quello praticamente è inattivo il tutto inattivo niente questo rigolazione livelli non mi serve a nulla devo effettivamente trasformare questo livello in qualcosa di più di più normale quindi io direi di caricare le informazioni di luminosità di caricare come selezione le differenze di opacità e trasparenza e quindi dirgli selezione da livello eccolo qui ritorno automaticamente alla situazione di prima prendere a questo punto un nuovo livello normale riempirlo di bianco e no aspetta c'è una selezione attiva la devo attivare dopo ecco adesso riempio prendiamo sempre un livello di regolazione di riempimento scusate bianco stavolta ok sopra ci andiamo con un livello pixel questo livello pixel carichiamo la selezione del livello vi faccio vedere dove sta del livello separato del colore separato selezione da livello ok adesso questo livello praticamente non ne ho più bisogno lo butto via così non si fa confusione e ora qui riempio tutto quanto però di nero attenzione facciamole vedere i livelli che abbiamo riempimento oppure direttamente no sul livello di regolazione non voglio farlo di nuovo perché ho paura riempi da modifica qui di nero vediamo se lo fa non me lo fa bellissimo allora lo faccio su quello sopra me l'ha cancellato maledetto ok ok vado su pixel e gli dico di nuovo riempimento o adesso non ha fatto bene applica 100 per cento normale deselezione melady e adesso si adesso posso unire questi due odio unirli qui c'è sempre un livello dinamico e non mi riesce se dico a questo livello pixel di unisci sotto questo mi salta il livello dinamico e si unisce al livello di base no allora di nuovo rasterizzo ok e adesso si posso unire sotto ecco qui perfetto e adesso si posso prendere il posso prendere il controllo livelli e finalmente posso scurire cambiare il contrasto cambiare diverse cose tutto quello che è grigio qui dentro praticamente lo posso modificare potrei pure prendere il pennello e mettermi a spennellare potrei prendere la selezione e questo mettiamolo pure all'interno così non disturba potrei prendere la selezione e aggiungere aree per dire adesso lo metto un attimo modalità moltiplica con il livello sotto così mi rendo meglio conto per dire potrei prendere un altro strumento di selezione rapida come il pennello selezione appunto e prendere alcune zone o prenderne altre che non ho preso ma non vorrei fare un effetto troppo piatto dopo tutto quello che è nero poi sarà colore ricordiamocelo e questa parte qui posso benissimo aggiungerla tolgo in moltiplica vedete posso aggiungerla semplicemente riempiendola di nero premo di per cambiare l'ordine dei colori così e gli dico di nuovo riempi e mi riempi automaticamente di nero chiaramente posso anche lavorare di fino andare proprio col pennellino e spennellare meglio alcune zone pennellino piccolo magari ecco qui caricare campionale il colore giusto che è nero e proprio dirgli alcune zone le voglio di più di me insomma avete capito le possibilità sono sono belle sono diverse ma quello che ci interessa noi è il fatto che questa parte qui deve diventare deve diventare un quinto colore ok allora di nuovo cerchiamo di vedere nel contesto tutto quanto adesso che ho finito no cerco finito diciamo di valutarla per vedere nel contesto tutto quanto però ho sempre il problema che il colore che riguarda questo questo livello adesso non lo posso simulare più di tanto potrei effettivamente prendere un rettangolo grafico cioè un elemento vettoriale dargli come riempimento un colore che che si avvicina a quello che voglio fare io e e metterlo sì metterlo in maschera dell'italia ma in effetti non basta fare questo perché tutte le parti come vedete della maschera di ritaglio sono sono opache aspettate sto facendo troppe operazioni così sono opache quindi non riesco a ritagliare le parti chiare oscure però potrei dirgli di mettersi in una modalità di fusione tale per cui ecco vedete schierisce schermo siccome qualunque colore che andrò a selezionare sarà sempre più chiaro del nero io con un colore del genere posso simulare con un rettangolo grafico con un colore assegnato in modalità di fusione schierisci posso simulare il colore finale e il problema quale che che non riesco però a vedere oltre a sfondare diciamo sul mio tigrotto cioè non riesco a vedere l'immagine composita perché per vedere la composita avrei bisogno effettivamente di sfondare questi pixel quindi di avere una maschera di questa immagine qui allora torniamo un attimo questo questo rettangolo poi magari lo recuperiamo in effetti lo posso fare in che modo lo posso fare trasformando questa immagine questo livello pixel in una maschera in un livello di regolazione di tipo maschera indipendente tra l'altro e mi basta andare sempre sul livello e dire rasterizza in maschera tu ecco qua adesso sta bucando tutto quello che vede in questo caso se vede il livello tigrotto sotto ma io posso metterlo all'interno del mio livello rettangolo che che si sta comportando però al contrario di come volevo perché perché la maschera va invertita mela finalmente finalmente ce l'ho fatta quindi qui ho la maschera del che comunque contiene tutte le informazioni che devo effettivamente separare che sarebbe questa ok e allo stesso tempo ho una simulazione con questo colore e la vedo nel contesto anche della quadricomia il mio rettangolo però finisce qui magari facciamo aia è unito è unito tutto il resto sapete come si fa per per far sì che non sia unito non lo sapete neanche io aspettate ma c'è un modo c'è un modo per cui devo dirgli di non trascinarsi dietro gli altri elementi diciamo figli in quanto questi sono elementi ecco dovrebbe essere questo che vedete poco ma c'è blocca sotto livelli vediamo se è funzionato infatti blocca sotto livelli che era un modo un istruzione che avevo bisogno un altro po di schermo per visualizzarla nella barra delle proprietà allora fin qui ci siamo arrivati abbiamo una buona rappresentazione di quello che andiamo a fare questa è l'immagine di quadricomia questo è il quinto colore che vado a mettere sopra devo isolare questo quinto colore devo fare anche un'altra cosa però non devo isolare soltanto questo colore devo anche effettivamente riservare la quadricomia cioè devo togliere la parte del quinto colore dal tigrotto dalla quadricomia e questo penso lo possiamo fare sempre mascherando cioè magari facciamo proprio una duplicato eccolo qui non si duplicò adesso lo duplicamo e lo rimaschero però di nuovo qui bisogna invertire le situazioni mela i mela i ecco fatto allora riepiloghiamo qui abbiamo ecco qui il mio tigrotto senza il quinto colore ma quindi tutte le parti togliamo la trasparenza tutte le parti dove andrà a cadere il quinto colore sono state tolte dalla quadricomia lasciando il foglio bianco e sul bianco andrà a cadere il quinto colore che è questo qui e ve lo faccio vedere da solo la rappresentazione c'è ci sta ora devo quindi salvare il mio documento così e band come quadricomia salvarlo poi salvare soltanto questa parte ma non così con la simulazione del colore ma con questo elemento grafico che mi sta simulando un colore arancio che sarà invece nero allora funziona e questo arancio cerchiamo di essere un pochino più ecco un pochino più più precisi prendiamo proprio un colore la tinta sì che la tinta va bene no no volevo proprio scegliere un colore dai campioni eccoli qua i campioni andiamo a cercarci proprio guardate quanti bei pantone che abbiamo fanno invidia e vi mancano lo so che vi mancano e prendiamo un formula guide solid coated che sono quelli veri e propri per cui insomma sono famosi nel mondo e cerchiamo ce n'è uno va beh in questo caso devo dire simile a quello che mi sono cercato non è così che si scegliono i pantoni e i pantoni si scegliono direttamente sui campioni fisici e su quelli si fa le nostre valutazioni però adesso scopo didattico preso un 2 0 1 6 no scusate un orange 21 c un signor colore ve lo raccomando assolutamente ecco quindi ce l'ho qui è il pantone orange 21 c spot molto bello ricordiamoci questo nome perché poi al tipografo serve solo questo serve sapere che che colore è che il numero di colore dovrà sostituire è vero che noi dobbiamo magari fare qualche prova di stampa prima per per essere sicuri ma insomma diciamo che siamo a buon punto 0 21 c ok a se facciamo una bella cosa ce lo scriviamo proprio pantone 21 c quindi 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 dicevo mi esporto il pantone beh questo punto dovevo però esportarlo in nero poi devo andare su esportazione qui voglio un pdf ecco l'ho fatto qualche tempo fa e vedete la bellezza che qui direttamente nel pdf posso normalmente la situazione esporta come documento cioè con lo spazio colore come documento ma io posso scegliere in questo caso scelgo proprio di avere direttamente un grigio è inutile mettere in campo devo uscire con una sola pellicola altrimenti me ne esce con tre o con quattro insomma questo caso tre perché erano in rgb no io voglio uscire con un spazio colore grigio e il profilo posso scegliere un profilo ma in questo caso è un pochino meno critico che si lavorasse con il colore grigio mettiamo un gamma 2.2 mi piace e poi assi e mi raccomando incorporare sempre i profili nel pdf e includo un po di indicazione per la stampante e diciamo che queste barre di colore in effetti ho fatto bene a toglierle e tutto il resto più o meno vedete abbiamo la compatibilità pdf 1.7 quanto deve essere il rasterizzato eccetera eccetera io direi che ci siamo devo ricordarmi che questo è un pantone 021c pantone 021c anzi chiamiamolo tigrotto prima ok stacchiamo la sci e vediamo un attimo me lo sta generando ecco penso che mi sta caricando direttamente acrobat e ecco bello bellissimo volevo questo che mi dicesse il tigrotto pantone 021c me lo scrive direttamente sulla pellicola cosa molto bella questa perché è questo ha bisogno al tipografo a questo punto il tipografo andrà a prendere dallo 021c e ad lo assegnerà praticamente al rullo di stampa sarà proprio un rullo di stampa con il nostro colore sarà bellissimo ecco qua abbiamo fatto una separazione a colore se volete facciamo anche il resto del lavoro dove il resto del lavoro è qua eccolo qui che sarebbe appunto togliere di mezzo un attimo la visibilità di questi elementi qui e invece rimettere in campo la visibilità di questi altri elementi che sarebbe la quadricomia e questa parte qui invece non la salviamo sempre adesso lo faccio l'esporta con la scorciatore da tastiera questa volta però noi cosa facciamo andiamo a impostare i file pdf sempre non come grigio ma come ciano magenta giallo nero perché il nostro sarà un quinto colore appunto e a questo punto siamo anche liberi di sceglierci il fogra 39 che amiamo tanto e l'immagine è stata riservata e a questo punto possiamo mettere se volete anche altre indicazioni più o meno dovete dovete un attimo però chiedere per essere sicuri che vanno fatte possiamo mettere anche queste benedette barre colore ed esportare e questa volta lo chiamiamo tigrotto sempre che ok non ci sono problemi tigrotto ci sono problemi finora è andata tutto quasi bene tigrotto bene molto bene to cm y k punto pdf ecco noi adesso praticamente ci ritroviamo questi due file di esportazione uno era questo e l'altro è questo qui con questi due file di esportazione si vada al tipografo e gli diciamo metti tutto assieme fai un bel pacchettino e ci ritroviamo a natale